Oggi cambio colore di capelli. Eccolo qua. Cambio di look, tagliati, cambiato colore, anche se non era quello che volevo io. Oddio, ho i capelli del colore della costa tua. No, prego. Guardate, allora non doveva essere questo il risultato. Come no? Doveva essere rame, invece è venuto tipo mogano e a me questo colore non piace. Però ho tagliato... C'è un'alita pesante? Mamma mia! Che ne so, c'è un'alita pesante? No. L'ho visto tutto? Le lacrimano un po' l'occhio. Vabbè, comunque, ho cambiato look, nel senso che ho tagliato e ho fatto il colore. Questo è il mio nuovo trucco. L'illuminante da stamattina alle sette, mi sa che se n'è andato. Illumina, illumina. Come solo. Ti illumino. E... E no, comunque, vabbè, poi no. Vedi, non potete capire. Che c***o. C'è proprio una cosa infinita. Non potete capire, non potete capire. Che cosa? Guarda il ragnetto sul giro. Che dici? Ma cosa ne pizzica? No, poveri. Non è il ragnetto, dai. Perché era? Era una azzecata. No, dai, dai. Allora, non potete capire? E tu che stai a dire? Che c***o. Cioè, da oggi stiamo a girare? Vabbè. Dai, da oggi? Da un'ora. Che stiamo girando parla, va? A trovare il costume. Ma sta zitto con il costume e lascia sta. Quelle scarpe. No, signora, mi sto benissimo. Ti devo sparire. È vero. Ma che te devono dire a farla finita. Ridicolo. Che vedi... Le commesse... Sempre bene. C'hai una pancia così che tipo incinta alle sette... Signora, pancia? Ma la pancia non ce l'ha. Assolutamente. Una volta vado... Vedo un paio di festivali bellissimi. Veramente, veramente belli. Entro. Erano in saldi. Super saldi. Se era come al solito io. Mi eccito. Allora, vado a comprare sti... Vado a provare questi stivali. Entro. Praticamente alle persone normali. Stavano... Si può vedere? Stavano qui. Io... Mi arrivavano qua su. Sembravo il gatto con gli stivali. A un certo punto mi guardo e faccio... Oddio! Dici... No, signora. Le stanno benissimo. No, no, guardi. Sinceramente non mi ci so vedere. Ma le stanno veramente bene. Poi questi stivali sono molto belli. E' stata una barzellera. No, è la verità. Quello mi è successo. Vabbè. Comunque... Mi guardo allo specchio e dico... No, guardi. Ma no. Ma perché? Sono bello. Dico sì, il tuo stivali è bello. Però a me non... Si stanno facendo il mio cabaret. Noi proprio in mezzo alla sala mentre la gente passa. Comunque... Sì, quello sempre ci fa. Si fa passi. Vabbè. Comunque... Mi fai finire il video! C'era un italiano, un francese... Comunque... Alla fine gli faccio... No, guardi. Mi dispiace. Non sembro il gatto con gli stivali. Dico... No. Dico... La commessa. Non sarebbe più come trattene. Invece... Pfff... Pfff... Dico... Guardi. Può ridere tranquillamente. Alla fine si scoppia da ridere. Dico... Ma no. Dico... Vede che mi ci vede pure lei che sembra il gatto con gli stivali. Poi questa faccia ha una tonda così. Adesso il gatto con gli stivali ha la faccia tonda, no? Si stivali. Una cosa orripilante. Però si stavano a dirmi che mi stavano benissimo. No. Il gatto con gli stivali veramente. Poi c'ho 30 cm di gambe. Di cui 25... Ah, non è vero? No. Pesce. Pesce. Ah, sì. Ne ho mangiato il pesce. Venti erano di... di stivare. Se vuoi fatto. Se vuoi. Comunque vabbè. Se vi è piaciuto il mio look sono contenta. Se non mi è piaciuto è lo stesso perché tanto bisogna osare anche con i colori addeciti. Eh, poi mi tocca la mia. Sennò questo si annoia. No, no, no. Non mi annoia. Eh no? Che non mi annoia in me. Se sta a pian corpo ora con questa mano così. Eh, vabbè. Eccoli, eccoli. Ammazzia. però sto colore, deve essere amato però mi ha detto che scarica scarica, scarica, scarica tanto io scarico il bambino tutte le chiacchiere distinto vi salutiamo perché adesso mi amiamo ciao, non ce la faccio più dove ci devo mangiare con questa mano?